Nata senza fischietto per gli arbitri alto-tiberini con il raduno precampionato. La seduta si è svolta prima nello stadio comunale di San Giustino per i test atletici, poi nella sede della sezione in via Citernese a San Giustino, con visite mediche e disposizioni operative. A seguire l'immancabile saluto di apertura del raduno da parte di Nicola Fraschetti e Gabriele Magrini, rispettivamente ai presidenti C.R.A. Umbria e della sezione di Città di Castello, presidenti già presenti allo stadio di San Giustino, insieme ai rappresentanti dell'amministrazione comunale. Una giornata ottimamente organizzata e funzionale sotto tanti punti di vista. Una giornata necessaria per test e ripasso, il tutto condiviso da molti degli iscritti della sezione. Gli assenti erano giustificati. In totale, infatti, i fischietti presenti erano oltre 20, fra cui molti giovani, tra loro anche due ragazze di 14-15 anni. Oggi riparta ufficialmente una stagione con il punto della situazione dopo due mesi di preparazione per coloro che, a breve, inizieranno la stagione dirigendo gare di settore giovanili, dai giovanissimi alla seconda categoria, ha detto il numero uno della sezione alto-tiberina. A certificare la bontà del lavoro, la presenza, come detto, del presidente regionale Nicola Fraschetti e di arbitri non coinvolti nella giornata lavorativa, visto il loro impegno a livello regionale e nazionale che è già iniziato.